mi fa davvero molto piacere ritrovare federico povoleri ciao ben trovato con me ciao beatrizia è un piacere essere qui di nuovo a te con te scusami saluto tutti grazie grazie a federico povoleri ricordo regista e scrittore già autore di sublimen che è un libro che abbiamo avuto modo di conoscere qualche mese fa e quindi esci con un nuovo libro che si chiama sublimen 2 in questo caso alla conquista delle menti cioè il lato oscuro di hollywood beh è un libro che subito si presenta come impegnativo se nell'altro avevi citato la propaganda naturalmente presa no qua e là attraverso le opere letterarie attraverso il cinema no ricordiamo abbiamo parlato anche dei cartoni animati in questo caso invece sei più diretto sul cinema che è un po il tuo pane se vogliamo sì sentivo il bisogno di approfondire alcune argomentazioni in sublimen nel primo libro sublimen ho affrontato un po la propaganda a 360 gradi però ovviamente in modo ridotto perché altrimenti avrei dovuto scrivere un pomo di 400 pagine e così in questo secondo libro ho deciso di affrontare più il tema proprio dell'intrattenimento del cinema ok senti la prefazione intanto è di massimo mazzucco è che naturalmente sappiamo essere intanto amico e e una persona con la quale tu hai collaborato quindi ti avrà certamente fatto piacere che dice massimo di questa tua opera da massimo è ovviamente contento e lui mi esorta sempre a fare anche il film lui mi dice sei la persona che deve fare il film sulla propaganda e vabbè chissà che non riesca a convincermi e che prima o poi non riesco a rinchiere di questo progetto ma lui è contento comunque riconosce sempre che ho fatto un buon lavoro e questo mi fa molto piacere perché avendo collaborato con lui molti anni è bello sentire anche la sua il suo appoggio la sua vicinanza assolutamente sì ascolta quindi andiamo direttamente su su questo libro hai sentito quindi l'esigenza di sviscerare se vogliamo ulteriormente questo argomento perché perché io sono un grandissimo appassionato di cinema mi piace da sempre e mi sono reso conto che negli ultimi se sempre esistito un cinema di propaganda però negli ultimi anni è diventato preponderante cioè da quando praticamente le grandi famiglie di hollywood no la warner bros la mezzo goldman meyer eccetera hanno venduto i loro studios acquisiti da delle grandi multinazionali ad esempio la la sony ha comprato la colombia ma adesso la disney ha comprato addirittura la fox e un sacco di altri la pixar eccetera appunto tutti questi studio sono diventati praticamente dei laboratori di propaganda a tempo pieno e quindi ho sentito l'esigenza di parlare di questi film di raccontare un po come funziona la propaganda fin dagli esordi del cinema e come si è trasformata appena ad arrivare ai prodotti che ok perché naturalmente tu proprio sottolinei lei appena detto che la propaganda è partita subito cioè probabilmente perché il cinema inizialmente ha avuto un taglio proprio di essere legato al sistema no cioè ci sono state all'interno dei regimi sicuramente dei registi che consenzienti hanno apportato nelle loro opere il bene e il male del regime stesso sì assolutamente ma pensa che si è compreso subito fin dai dall'invenzione della pellicola il potere che aveva l'immagine il primo film probabilmente più grande film di propaganda che c'è è quello che realizzò la reitenstall un documentario sul congresso israeliano lo conosce famosissimo e che è spacciato per essere un documentario quindi una semplice cronaca di questo congresso del partito nazionalsocialista ma in realtà è stato un vero e proprio film dove sono state utilizzate comparse effetti speciali eccetera che hanno reso questo film di una potenza tale che ha scatenato un'onda emotiva nel mondo incredibile addirittura in america vinto un oscar cioè è stato riconosciuto in tutto il mondo come un'opera di grande forza e da lì si è capito subito che il cinema poteva essere utilizzato come un'arma un'arma di propaganda quindi dalle esperienze diciamo nazista e poi da quella americana che ha visto nascere negli anni 50 un ufficio dedicato proprio alla propaganda cinematografica da lì poi si è sviluppata fino perché all'inizio era una propaganda legata soprattutto nei tempi di guerra ovviamente propaganda bellica però nel dopoguerra è una propaganda sempre comunque di tipo militare e legata alla sicurezza nazionale specialmente in america e ad esempio non so c'è un film di fantascienza famosissimo che è l'invasione degli ultracorti degli anni 50 di don sigel che è un manifesto anticomunista no praticamente questi baccelli che venivano rilasciati nelle case e che producevano di duplicate delle persone però svuotati di ogni personalità era proprio un feroce attacco al pensiero comunista ed è uno dei film più famosi della propaganda dell'epoca però se appunto in quegli anni la propaganda era limitata a questo quindi a una sorta di nazionalismo di attacco appunto al comunismo oppure comunque sempre legato alla sicurezza nazionale negli ultimi anni da quando appunto le grandi multinazionali hanno acquisito gli studios il cinema è diventato un veicolo per propagandare qualsiasi cosa e nel libro parlo di una cosa interessante perché che ho scoperto facendo varie ricerche che non è più solo il governo che utilizza il cinema ma sono nate un sacco di associazioni private è un po la storia della terza parte di cui parlavo nel primo libro associazioni private però finanziate sotto banco da gente potente come rappresento Hillary Clinton e altri personaggi che sono tutte associazioni per i diritti ad esempio i diritti LGBT oppure i diritti per le persone di colore o la salvaguardia del clima tutte queste cose queste associazioni sono finanziate con tantissimi soldi e intervengono direttamente fanno delle riunioni con i registi con i sceneggiatori perché vogliono introdurre nei film le loro argomentazioni e c'è addirittura una di queste associazioni che è riuscita e si è preposta di arrivare entro il 2025 ad avere il 70% delle pellicola che trattano temi LGBT guarda tu in questo poco tempo hai toccato diversi argomenti che io reputo estremamente interessanti il primo è proprio quello che hai detto da ultimo e cioè il fatto che adesso c'è questa sorta di forma di politicamente corretto per cui necessariamente bisogna dare spazio a determinati argomenti e temi e anche utilizzare un linguaggio ad hoc perché certe forme di linguaggio comunicazione anche le battute più trash che venivano fatte no immaginiamo il cinema italiano quello del cine panettone natalizio cominciano ad essere film che non sono più tanto accettati al punto che mi trovavo in un'intervista con carlo verdone e lui lamentava proprio parlando mi lamentava questa cosa dice non si può più fare non posso più fare un film con un'attrice mezza nuda che subito vengo additato per quindi il risultato è che uno si vede inglobato in una situazione in cui poi è difficile anche di stricarsi perché devi accontentare questo è quell'altro senza scontentare no è un po complicato fare il cinema in questo modo molto complicato specialmente se poi pensiamo che ad hollywood comunque non esiste una reale libertà del registro ci sono appunto mille compromessi da dover accettare per portare avanti il proprio film ma mi fa tornare a mente una cosa io quando lavoravo come sceneggiatore per la world disney italia proprio in quel periodo mi ricordo che c'è un passaggio tra la mondadori e la gestione proprio della world disney che fu presa da itauer all'epoca che era un dirigente americano che aveva preso in mano la gestione della world disney europa e con questi cambiamenti iniziava ancora all'epoca che parlo della metà degli anni 90 iniziava all'epoca appunto questa epurazione di termini situazioni eccetera ad esempio e volevano togliere addirittura l'archidugio papirone sono anche l'archidugio papirone è una figura storica e dopo dovevano cogliere le armi e i bassotti e poi non si poteva più vedere i personaggi papri che mangiavano tipo non so un panino al prosciutto dovevano essere solo coltiglie sempre non offendere i vegetariani tutte queste cose qui no cioè cominciarono veramente ad esserci delle epurazioni che arrivarono a toccare livelli totalmente folli no addirittura ricordo un caro amico disegnatore della dirne che era incazzatissimo perché li facevano cancellare lui quando disegnava lo scenario metteva i manici degli ombrelli per esempio della casa gli facevano togliere i manici degli ombrelli perché potevano ricordare dei peini eretti no e quindi si arrivava a questi livelli capisci e cominciava già all'epoca questa cosa quindi oggi è estremamente però però è strano no federico sai cosa che ci sono poi invece e qui mi riallaccio anche a un altro aspetto dell'intervento che facevi tu prima ci sono poi in realtà registi che probabilmente riescono soprattutto negli stati uniti a dire qualsiasi cosa io penso che ne so george lucas il primo che mi viene in mente un altro è sicuramente spilberg cioè sono certamente personaggi che hanno fatto capire hanno immesso nei loro film quelle cose che a un occhio attento non sfuggono allora perché per loro questa regola non vale oppure loro fanno parte di un certo sistema perciò per loro non funzionano determinate cose no beh allora direi questo hai fatto due nuovi importanti giorgi lucas steven spilberg allora lucas sicuramente io mi sono un po letto la sua biografia le sue cose e lui da giovane appunto nato in un paese che si chiamava modesto da una famiglia non certo di né stante era sicuramente uno dei giovani eh registi che uscivano dalla scuola del lucla insieme a pranzi il forcopola e tanti altri e volevano cambiare il sistema quindi erano veramente dei giovani rivoluzionari credo quindi che eh almeno per quanto riguarda l'inizio della trilogia di guerri stellari nel primo film insomma sicuramente lucas ha voluto sotto sotto nascondere certe idee mettere certe cose insomma ci stavano a cuore determinati tempi però anche è vero che ha risultato molto favolesco molto per bambini no infatti si fu accusato all'epoca da registi come martin scorsese o brian de palma di aver fatto una stupidaggine quando lui fece guerre stellari dice è qui tutto quello che sai dire no per per fare un po di critica sociale eh perché lui appunto aveva creato questa confezione molto favolesca molto bambinesca e c'è un'intervista interessante di lucas lui a un certo punto dice qualche anno fa mi sono ritrovato da combattere il sistema a dirigere il sistema è il lato scuro della forza quindi è anche consapevole di essersi trovato improvvisamente dall'altra parte eh però lui diciamo eh infatti più che un cineasta poi è diventato un produttore una persona che si è occupata di sviluppare le tecniche cinematografiche eccetera il problema è che negli ultimi guerre stellari che ha fatto che ha girato lui quelli della nuova trilogia lì utilizza delle tecniche effettivamente che non sono pro pubblico eh ne parlo proprio nel nel libro eh ad esempio eh nell'attacco dei cloni lo utilizza durante i combattimenti con le spalle laser delle luci stroboscopiche che è stato dimostrato che sono in grado di eh creare degli effetti ipnotici tanto che i luci hanno sviluppato un'arma con questo tipo di luci sono stroboscopiche no? per disorientare il nemico e quindi lui utilizza queste tecniche per disorientare il pubblico quindi bisogna capire bene cosa sta facendo Luca per quanto riguarda Spielberg invece io credo che Spielberg sia proprio un legista di propaganda di pura propaganda come è stato all'epoca Hitchcock o Frank Capra no? Legisti bravissimi cioè straordinari però comunque che lavoravano per il sistema io credo che Spielberg lavori proprio per il sistema questo l'ho visto in molti film che ha fatto cioè se uno va a vedere i messaggi veramente nascosti poi sai è vero che mettono dicono qualcosa ma questo fa parte della tecnica della tecnica propaganda cioè rivelare delle cose quindi far vedere come che sei dalla parte del pubblico ma in realtà puoi lanciare un messaggio contrario è sottile la cosa sì ma questo è comunque vuol dire che ci vogliono comunicare qualcosa e quindi renderci edotti partecipi se vuoi oppure comunicare semplicemente è un esercizio di stile e quindi rimane un po' a fine a se stesso c'è sicuramente una volontà di comunicare anche determinate cose che poi si avverano o verranno questo fa parte della programmazione predittiva che è un altro articolo del film e se tu hai notato ci sono molti film in cui appunto ci sono delle informazioni delle cose che poi bene o male si avverano o succedono e questa è la tecnica questa di propaganda cioè si rilasciano delle informazioni che già si conoscono in modo che il pubblico possa piano piano assimilarle in modo che poi quando arriva il momento che queste situazioni si verificano veramente c'è una maggiore accettazione e una minore registri eh ma guarda che ci hai detto delle cose veramente importanti senti secondo te tra i registi chi è il migliore se uno dovesse fare così un discorso proprio lavorativamente parlando quale dei tanti riesce meglio a cogliere gli aspetti più salienti anche della della realtà del sistema eh beh io credo che l'unico regista che è riuscito a fare davvero quello che voleva questo è un caso emblematico che avrebbe indagato perché non accade a nessun regista è stato Stanley Kubrick Stanley Kubrick ha utilizzato sicuramente in tutti i suoi film delle tecniche di propaganda però per denunciare il sistema ed è stato l'unico ehm regista che ha avuto la capacità di farlo veramente in modo trasversale senza mai scoprirsi troppo tranne che con l'ultimo film che è Eyes Wide Shuttle in cui è stato veramente esplicito al massimo e alcuni dicono che gli ha perso la vita questo eh però in tutti i suoi film lui eh per quanto affronti varie tematiche fantascienza dramma guerra eccetera lui parla sempre del potere e del sistema imperialista americano mostra sempre la faccia del sistema la mostra sempre in modi astuti ed è stranissimo che sia stato l'unico regista che aveva il potere il totale potere creativo dei suoi film cioè la Warner Bros non poteva mettere nessun cioè dictat ai suoi film ma addirittura lui ha potuto ritirare e questo lo dice lunga sul potere che aveva pubblico ha potuto ritirare aranza meccanica in Inghilterra dopo che scopriarono le polemiche perché dicero che fino aveva ispirato la violenza in alcuni giorni no? Lui ritirò il film quindi provocando un danno economico enorme alla Warner Bros e la Warner Bros non poteva intervenire quindi pura decisione proprio di Kubrick questo e alcuni dicono poi sai qui entriamo in campi in cui è difficile un po' eh però alcuni dicono che Kubrick aveva questo potere perché era stato l'uomo che aveva aiutato a girare i falsi alunaggi dell'Apollo 11 e quindi essendo stato vicino agli ambienti governativi e avendoli aiutati a realizzare queste cose aveva ottenuto in cambio tutto questo potere che nessun altro legisario ha mai avuto a meno che non fosse veramente indipendente ma pubblico non era indipendente se nel senso lavorava per i grandi studios in economia poi questo non lo so se è vero oppure no però sicuramente la sua indipendenza è emblematica è sicuramente emblematica sì ma poi ci sono questi registi che fanno spendere una barca di soldi alle case di produzione cioè avevo ascoltato tempo fa un'intervista di Spielberg che lui diceva che lui costa tantissimo realizzare un suo film costa tantissimo e però ne andava fiero eh per carità di questa cosa ma fino a che c'è qualcuno che paga va benissimo così invece ti volevo chiedere ma se una persona volesse cogliergli questi messaggi c'è un qualcosa cui si può più prestare attenzione magari un atteggiamento o qualcosa che viene detto o fatto dagli attori stessi o una certa ambientazione o che cosa? beh vedi guarda non è facile perché se tu pensi al cinema la manipolazione del cinema è su moltissimi livelli perché può raggiungere la narrazione quindi la storia no? cioè può essere quindi una storia che contiene degli elementi di propaganda l'immagine quindi il tipo di inquadratura come viene inquadrato un film eccetera l'uso della musica o dei suoni il montaggio secondo il maestro russo della qualità con Pionchi il montaggio è un elemento che può essere pensato matematicamente per scatenare una reazione emotiva nel pubblico e suscitare nuove associazioni di idee quindi vedi quanti elementi ci sono? dovresti cominciare ad analizzarle tutti addirittura la parete di colori no? non sai che ogni regista quando fa un film sceglie anche il tipo di colore che gli interessa quindi scusano la parete di colori e tutto è praticamente può essere utilizzato per veicolare messaggi quindi bisogna avere una conoscenza che è molto ampia che attraversa tutti questi campi e non è per nulla facile poi ci sono messaggi sicuramente rivelati in modo abbastanza esplicito ho visto per esempio un montaggio troppo tempo fa proprio su youtube uno aveva raccolto 40-50 film in cui c'è una sequenza dove l'attore mostra la mano in primo piano e ha un anello con il singolo massonico e tu vedi un montaggio di 50 film che mostrano sempre una sequenza così capisci? quindi lì non può essere una casualità 50 film e tutte 50 c'è l'attore che a un certo punto arriva a un primo piano ti muoce un anello con il singolo massonico è un messaggio che viene dato a qualcuno insomma che viene in qualche modo mostrato volutamente sai adesso che parli mi è venuto in mente Matrix che è uno di questi film che vengono più citati in questo ultimo periodo la pillola rossa, la pillola blu, il cucchiaino che si piega oppure no questo mondo virtuale rispetto ad un altro che c'è insomma a proposito di messaggi che uno vuole lanciare o che vuole far trasparire certamente questo è, è così e quindi un attimo stavo appunto riflettendo su questo e su altri film che nel frattempo mi sono passati in mente dicendo ma questo potrebbe essere rappresentativo secondo te qual è il film più rappresentativo della propaganda che tu dici allora guardate questo ragazzi perché questo sicuramente vi darà delle risposte oppure facciamo così dammene tre di titoli perché forse sceglierne uno è un po' complesso ma guarda invece di darti un titolo ti dico una cosa consiglio a tutti di riguardare i vari rifacimenti dei classici se uno guarda tutti questi rifacimenti hanno rifatto Batman, hanno rifatto tutti i vari film ah tu parli proprio delle cose di fantascienza quindi dei supereroi non dei classici in generale anche i classici in generale se tu guardi i film più importanti dove ci sono stati determinati messaggi ad esempio il pianeta delle scimmie del 70 è un film del 68 è un film veramente importante scritto poi da Rob Serling che non era un cretino qualsiasi ma uno che veramente è l'inventore dei confini della realtà della serie televisione dei confini della realtà uno che aveva molte cose da dire ed è un film veramente interessante se tu guardi il rifacimento che hanno fatto poi in anni recenti tutti gli elementi di critica sociale di critica al sistema di quel film sono scomparsi ah ecco quindi hanno rifatto il film con gli effetti speciali più belli più d'azione più di pathos però hanno tolto tutti quegli elementi riflessivi che invece nel primo film facevano riflettere il pubblico facevano pensare e cliccavano il sistema quindi se tu io ho notato all'inizio pensavo una volta pensavo che gli effetti rifacimenti più sono fatti perché ad Hollywood non avevano più idee in realtà non è così li rifanno perché riscrivono la storia riscrivono proprio la realtà e stanno eliminando ogni parlando politicamente corretto di cui parlavamo prima eccetera stanno eliminando ogni elemento possibile di riflessione o di contrasto con il sistema quindi se uno riguarda l'originale e poi il film rifatto e ce ne sono pareti ultimamente da poter rivedere si rende conto proprio di questo punto noi in Italia possiamo stare tranquilli prima ti parlavo del cinepanettone beh allora c'è da dire una cosa ovviamente Hollywood è stata sicuramente invasiva come con il suo cinema noi abbiamo avuto il 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 neorealismo in in Francia abbiamo avuto la nouvelle bag eccetera il nostro cinema è sicuramente diverso però c'è da dire che qualche qualche elemento comunque emerge anche da noi non a questi livelli ovviamente però ricordo non so se ti ricordi il film The Millionaire il doppiaggio italiano fu cambiato perché è in modo importante perché c'era una sequenza in quel film in cui degli degli indù attaccavano di musulmani in inglese si sente chiaramente questa cosa tu ascolti il doppiaggio italiano e i musulmani diventano quelli che stanno attaccando non quelli che sono attaccati perché in quel periodo c'era ancora tutta la narrativa contro i musulmani della storia del 10 settembre eccetera e queste cose non sono proprio diciamo piccole però sì il nostro cinema secondo me ha comunque ancora molte cose a dire ad esempio posso immaginare mi ha stupito molto vedere non so se l'hai visto la straordinaria forza dell'Isola delle Rose sì esatto questo è un film interessante di un registra giovane che insomma ha voluto dire qualcosa di interessante sul senso no ma io dico in generale poi magari anche noi facciamo i nostri film di denuncia anche se in chiave forse anche più leggera talvolta però certamente noi non è che non abbiamo i nostri messaggi da divulgare questo è ovvio non è che siamo proprio degli sprovveduti e credo che la produzione del cinema in Italia sia importante però come dicevi tu e hai sottolineato tu anche all'inizio Hollywood è un'altra cosa adesso c'è anche questa uscita di Bollywood quindi un'altra tipologia di cinema e anche loro probabilmente avranno la loro propaganda assolutamente ma infatti se hai notato anche l'esplosione del cinema cinese oltre che di quello indiano sta portando una fortissima propaganda a favore di questi paesi cioè stanno facendo quello che ha fatto l'America all'inizio degli anni 50 adesso lo stanno proponendo loro praticamente stanno creando questi film che mostrano un'immagine estremamente positiva e bella della loro realtà di loro paesi eccetera e c'è appunto Bollywood che è lanciatissima e anche il cinema cinese sicuramente anche il cinema russo sta crescendo nuovamente in modo incredibile e sta facendo di nuovo film di propaganda ho visto diversi film russi recenti che sono assolutamente più di propaganda pro-Russia quindi probabilmente adesso con i mezzi che sono oggi probabilmente molti stanno cominciando a utilizzare il cinema in questo senso che non è una cosa secondo me proprio bellissima però no infatti no però è soltanto uno dei tanti mezzi di comunicazione di massa che fa propaganda esattamente come tutti gli altri come già capita alla radio alla televisione e quindi ai giornali direi che purtroppo non ci si discosta molto da quello che è poi il modus operandi in generale di tutti quindi forse forse dovremmo essere noi un po' più scaltri a cercare di come dici tu recepire almeno quelli che sono i messaggi più banali quelli che proprio ci passano sotto gli occhi e non semplicemente a definire un film bello o brutto perché magari ci è piaciuta semplicemente la storia no ma infatti io questo libro l'ho scritto anche per questo perché per tentare di comunque dare un messaggio alle persone aiutare le persone perché effettivamente noi ecco l'errore più grande che facciamo tutti e ne parlo proprio in questo libro è dire ma sì ma tanto è solo un film senza rendersi conto dell'effetto che invece a livello sottile perché sì è vero che è solo un film e che quando è passata quell'ora e mezza noi usciamo dal cinema e siamo consapevoli di aver assistito a una finzione però tutti i messaggi che sono stati veicolati quell'ora e mezza continuano a fermentare nelle nostre teste e producono nuove associazioni di idee che poi produrranno le nostre opinioni quindi non è del tutto vero che è soltanto un film o è così innocuo non è per nulla innocuo Alla conquista delle menti Il lato oscuro di Hollywood Sublimen 2 questo è il libro di Federico Povoleri con la prefazione di Massimo Mazzucco grazie Federico per essere stato con me e spero di ritrovarti prestissimo grazie a te Beatrice è stato un piacere e a presto Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione Ti aspetto con le mie interviste su Davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio